Benvenuti. Vedremo in questo breve video, come usare Windows senza mouse o tastiera. Possiamo spostarci tra le varie aree di sistema, il desktop, le finestre ecc. Senza aver bisogno del mouse, semplicemente utilizzando il tasto TAB, per poi spostarci, una volta evidenziato l'elemento, con le frecce direzionali sull'elemento desiderato. C'è anche la possibilità, di controllare il cursore del mouse con il tastierino numerico, per attivare questa funzione, ci basta andare su impostazioni e selezionare, sempre come visto prima, la voce accessibilità, finestra raggiungibile anche premendo la combinazione di tasti TAB più, metterò in descrizione come raggiungere questa finestra in altre versioni di sistema. Ora, selezioniamo la voce mouse e attiviamo il controllo del mouse tramite tastierino numerico. Provate ora a spostare il mouse con il tastierino numerico, tenete presente che, con i tasti 8 e 7 ci spostiamo giù e su, con i tasti 4 e 5 a sinistra e a destra, mentre con i tasti 7, 9, 1 e 3, ci sposteremo per diagonale nelle loro rispettive posizioni. Metterò in descrizione maggiori informazioni. Premendo ora il tasto numero 5, simuleremo il tasto sinistro del mouse, premiemolo ora due volte sulla barra del titolo della finestra, simulando così un doppio clic, maximizzando la finestra. Se vogliamo gestire al meglio la finestra, ad esempio spostarla, ci basta aprire il menu della finestra, premendo la combinazione di tasti ALT più BACK SPACE, per poi selezionare la voce SPOSTA. E spostare la finestra con le frecce direzionali, per poi rilasciarla premendo INVIO. Dalla stessa finestra, è anche possibile, sulla voce TASTIERA, attivare una tastiera virtuale, nel caso non si disponga di una tastiera fisica. Per poter simulare la pressione dei tasti, compreso la combinazione di più tasti, ad esempio WIM+, che come già visto apre la finestra accessibilità. Grazie. Grazie.